Raid vandalico questa notte ai danni della sede di Città Futura, una delle due liste che sostiene la candidatura a sindaco di Gioia Tauro di Aldo Alessio, che il 9 giugno competerà al ballottaggio con Raffaele D'Agostino. I gnoti nel corso della notte, dopo aver forzato la serratura della porta, sono entrati nel locale e hanno strappato i manifesti, vandalizzato le suppellettili e urinato all'interno della sede posta in via Francesco Tripodi, nel quartiere marina di Gioia Tauro. Ad accorgersi dei gravi atti intimidatori, uno dei sostenitori di Alessio, che ha avvisato la polizia, che sta effettuando i rilievi tecnico-scientifici sul posto. Il Raid è stato stigmatizzato da Alessio, che lo ritiene un brutto segnale per il prosieguo della campagna elettorale, anche se il candidato a sindaco a sporto regolarmente denuncia presso il commissariato di Gioia Tauro. È un chiaro atto intimidatorio, noi non ci lasceremo intimidire, andremo avanti con grande coraggio, forza e determinazione per chiudere questa campagna elettorale in bellezza, per come merita la città di Gioia Tauro. È un gesto compiuto da Vigliacchi, noi andremo avanti per la nostra strada e sapremo dare le risposte alle necessità della nostra città. Il gesto compiuto è chiaro, nel linguaggio mafioso non ci possono essere ombre di dubbio, io entro in casa tua quando voglio e come voglio e vi piscio addosso. Questo è il messaggio che io interpreto rispetto al gesto che hanno compiuto questa notte e comunque andremo avanti per la nostra strada. Aldo Alessia è un cittadino onesto che vuole continuare a battersi per risolvere i problemi della sua città, della nostra città e per recuperare l'onore perduto in questa nostra cittadinanza. Quindi da oggi continua la tua battaglia per il giorno 9, per essere sindaco di questa città? Certo, continueremo con serenità e tranquillità la nostra battaglia parlando dei problemi concreti dei cittadini. I cittadini vogliono una città ordinata, pulita, una città dove ci sono i servizi, dove c'è un'amministrazione sana, onesta e competente.